Rita Varisco, che purtroppo oggi non è possibile essere qui con noi, quindi ritira l'onorificenza il fratello Alessio, consegna il riconoscimento e il prefetto insieme al sindaco di Besano in Brianza, Emanuele Pozzoli. Laureato in scienze giuridiche presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano e in storia del diritto medievale e moderno presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cocca, la dottoressa Varisco attualmente svolge la propria attività lavorativa prevosto l'Ufficio Affari Legali della Società d'Evolue S.p.a. e cura il coordinamento editoriale per la collana Domus Templi di Effigie Edizioni, nonché la consulenza storico-giuridica e le ricerche storiche presso gli archivi di Stato. Ha effettuato svariate pubblicazioni sull'arte sacra e sugli ordini cavallereschi e dinastici, è tra i fondatori della sezione provinciale di Monza dell'Abrianza e dell'Unione Nazionale Cavalieri d'Italia e dal 10 febbraio 2018 ne è segretaria provinciale. È inoltre vicepresidente del Lions Club Carate Brianza Cavalieri e fondatrice dell'Accademia dei Cavalieri. Negli ultimi quattro anni ha coordinato la distribuzione di oltre 4.000 copie della Costituzione italiana in varie scuole italiane ed ha promosso la pubblicazione del saggio della Costituzione italiana a 70 anni della sua emanazione, stampata con il contributo del Lions Club Carate Brianza Cavalieri e dell'UNCI sezione di Monza dell'Abrianza. La dottoressa Varisco si è inoltre prodigata nella distribuzione di generi alimentari alla Caritas e a molti monasteri, nonché nel reperimento e nella donazione di libri nuovi a diverse biblioteche civiche sul territorio nazionale.